Buona settimana, bentornato Don Antonio Ciao ciao, bentornati anche voi purtroppo ci siamo tornati con l'acqua dopo questo grandissimo avvenimento milanese con un milione di fedeli che ascoltano il Papa, io speravo che il Papa riuscisse in qualche maniera a conciliarsi e a perdonarsi e a perdonarsi con le persone che hanno problemi del matrimonio ma non è adatto, spero la prossima volta, comunque il messaggio di oggi e non ditemi che non lo capite, è più facile avere notizie aggiornate dal mondo che da se stessi, chiaro? Ciao ciao